Ecco, come promesso, avevo detto che venivo. Ora mi vesto e poi ci vediamo dopo. Ciao! Mi sto aspettando Guerino! Che mannaggia, non l'ho registrato che ha detto una cosa. Siccome ci stanno i cani che fanno macello, sempre, perché c'è il borde con le... Siccome c'è il stivali, c'è il stivali qui, ha fatto. Dove c'è il stivalo con l'altro stivalo? Eh, non è... Spiegati le chiavi, non ci impari. Stivalo! 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 E guarda che qui muoce, signor Certosino. Eh? Perché le radici non le hanno fatte seccare. Ormai le hanno fatte seccare! Ormai le hanno fatte seccare! E comprare... Dopo Barbara per il mio marito. E... Andiamo a fare la passeggiata, mi sa vero? Andiamo a fare la passeggiata? No! Andiamo a fare la passeggiata, dopo vi faccio vedere... Giro la telecamera, ve lo faccio vedere. Vado a fare la passeggiata, ma... Ciao, peri! Ecco, andiamo al civito, andiamo a giro, a spazzo... Sì! Hanno messo tutta... Dove non venne i negozi... vedranno il centro commerciale come quello che ce l'ho là! Sì! Avevi i sordi e che hai fatto il negozio! Farebbe bello! Vabbè, il sogno mio non è avere il negozio! Però... Non lo so mai se potrò realizzarlo, però... Il sogno mio è diventata famosa! Un sogno da piccola sempre, però... Non lo so... Ognuno deve fare i suoi sogni! Lo dico sempre io! Il sogno mio è avere la casa, la mia proprietà... E... La gente famosa! Però... non lo so... Non lo so... Oggi ho scaricato un'applicazione... Sempre per video... Perchè quelle... Applicazione che ho... Più di quindici, sedici minuti... Non me lo fa fa... Mi dice che... Troppo! E... 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 Perchè di solito... Faccio sui venti minuti... Ho registrato... Ho registrato... Ho fatto i vlog... Poi... E... Non è che... Guardo i minuti... Perché... Parlo... E... Faccio... Racconto... Cose... Parlo... Figo... No? Mentre... Sto a fare vlog... Oppure quando... Faccio da strada... E... Tante volte... Mi capita questi venti minuti... Mi dice... Trenta minuti... Pure... E... Mi toccare va... Poi... Metà video... Poi... Ci saranno certi pezzi di video... Che levo... Che sopportanti... Per me... Che... Vi dico le cose... Allora... Musso a cercare... Un'applicazione... Che si può... Mette... Però... Il problema... È... Mette tutte le musiche... O... Non le metto... Musiche... Metto come quel ragazzo... Che... M'ha fatto sta... Ma... Si inizia... Così... Fa... Le bolle... Per due ragazzi... O... Vede... Dopo... Rachele... Vede... Perché io... L'ho scaricato... Ma... Questa applicazione... Voglio vedere... Se va bene... Perché... Deve essere... Un'applicazione... Che... Pura parete... Perché io... Sul computer... Ho sbloccato... Più di quindici minuti... Posso fare... Però... L'applicazione... Non me la fa fare... Quello è il problema... Questa è un'altra via... Lì... È la stazione... Che... Che... È qua... Che... Che... È questa banca di video... Qui... in pirata... In pirata... Che... Che... E... Quello è il problema... Che... 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 però si chiama su per giù però è un'altra che se poi non ci sa il termine invece quell'altra ci sta da una parte 9 minuti e da una parte 16 e più di quello non si può fare invece si trova un'applicazione che si può mettere più o meglio sono più sicura di fare video perché se no tocca a smette perché se no non lo fa mette e allora così vediamo proviamo a vedere il pino poi pure per vedere a fare passeggiare venimo a fabbrica perché civita non adesso a fabbrica venimo a civita la fabbrica perché fabbrica è piccola dopo aver fatto il cicetto basta è finita oggi mi sono bevuta il cappuccino di soia perché ora mangio certosino filadelfia senza latocio e allora sembra che ecco riesco stampo meglio di stomaco se non avviano dolore di stomaco forte che non riesco a digerire comunque buongiorno invece a fare vlog faccio video che parlo di qualche famoso che uno un mio fan ha detto se faccio racconto per le idee di famosi se non faccio vlog lui ha detto fa vlog più questo ma troppo due ma già facendo vlog troppo tempo c'è da fare tutto il giorno a me piace più a fare vlog perché mi piace andare in giro mi diverto più a fare vlog che sto a casa a parlare della telecamera perché è più me stessa andare in giro però vabbè pure la telecamera quale ormai qui si è abituato più tempo passa più diventando me stessa perché quel tempo mi abituo e allora piano piano parlo meglio abbiamo attraversato abbiamo attraversato più tempo passa e più io sto più a mio agio a parlare da telecamera o queste cose così perché io sono un po' timida allora primi tempi mi sembra molto difficile per parlare ma adesso invece il tempo passa più divento sciolta perché non mi ci abituo ecco siamo andando verso la macchina e poi andiamo a casa un po' vabbè senza avvicinare l'inverno perché padrone di casa ancora dentro sta il cammino ok ok ecco siamo arrivati qua da questa macchina ora devo guidare e non posso registrare più siamo andate alla coppe e abbiamo comprati tre di questi qua che sono la carne però loro la mangiano perché a me mi fa male tre per me invece io mangio questo qua che senza glutine perché qui ci sarà il formaggio che non so se è mi dovrei fare da sola qui invece c'è glutine senza frumento senza frumento devo facciare veramente a terra meglio veramente a terra perché poi questa cosa ci sta poi il zucco di montano ragù bolognese poi abbiamo comprato la pizza bianca che abbiamo speso 1,70 euro la pizza e questa è margherita e tutta questa roba abbiamo speso eh dove sta poi io lo vedo allora abbiamo speso 13,35 euro c'ho la scheda 11 punti più ah già c'è 11 punti ancora io ci ho fatto spesa ho fatto sconto allora 11 più punti più mi hanno messo un punto eh sono 12 punti ah no ieri abbiamo fatto spesa e mi hanno fatto lo sconto e quella è la spesa che non ci ha oggi comunque l'ho messa l'applicazione come si chiama raga l'applicazione? via 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 viva ah viva video speriamo che riesco a imparare perché la musica mi ha messo a raghere perché non ci capisco tutto però sembra che è più bello il video il video cosa è più bello va bene boh ci aspettiamo a ora di pranzo poi oggi mi cambio colore di capelli però non faccio un video solo così ma faccio tramite vlog e così vedete il mio colore di capelli è nero ah mi faccio nera perché mi stufo io non mi piace che si vede la ricrescita vabbè ah mi faccio vedere i giochi che si è comprato oggi ragazzi si è comprato i giochi che lo usa su il mio computer questo penso è un gioco di paura non lo so se voi siete esperti boh si è un gioco di paura e poi si è comprato questo qua e le corse con le motociclette va bene questo rigiochi si è comprato oggi ora aspettatemi a ore di pranzo che vi faccio vedere quando è pronto a mangiare perché mentre pranzo no perché c'è successo quella cosa ora vi faccio vedere solo quando mangiare ciao buona domenica ora vi faccio vedere cosa mangiamo questo mangia un pochino 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 ecco questa è la mia pasta dovrei fare con il pomodoro però mi fa l'acido pure il pomodoro buh vabbè questa è la pasta senza glutine invece a loro che ci sta il formaggio se lo fa male vabbè mangio roba così non mi sento pesata sul stomaco qua sotto c'ho questo qui che dormi ciao Timi prendo davvero la luce sul piede quanto è bello questo cagliorino quanto è bello ma quanto è buono oggi sorridi ti fai il sorrisino di te tu ti fa una volta c'è qua ciao leooo va bene ora pranziamo e dopo quando mi fa la tinta o prima lo dico ciao bevi dai che figo che figo che figo che so io ma quanto so figo io non c'è nessuno come bello come me ciao so proprio un figore che bello figo che sta qua tอกando eccomo la dia che sta preparando la tinta e mi faccio questo colore qua se non mi faceva da quello viola quello sotto va bene vediamo come vengo ne vado il piacchetto ne vado il piacchetto va bene ci vediamo o quanto brava passa la ditta o già quando è tutti senti i capelli come la bella vediamo facciamo le triche comunque lo shampoo perfetto perché oggi devo lavare i capelli e qua giù non so più di spi ciao a dopo ecco mi ha fatto la ditta e mi faccio aspettare mezz'ora e poi vediamo ecco questo qui mi do sciacquare ancora però mi devo sciacquarli però non è così dopo penso che quando si asciugano non so cosa deve vero va bene dopo quanto l'ho lavato l'ho sciocato vi faccio vedere ciao ragazzi mi sono rifatta la tinta perché quello la nero naturale non mi aveva preso bene tutti i capelli e mi erano rimasti qualche pezzo biondo allora mi sono andata a ricomprare questa tinta ecco l'applicazione ho letto adesso che applicazione è viva video e mi entra tutti i video almeno penso va bene ciao a dopo mi piace con capelli neri nero blu però sono bagnate anche un blu che sia non si vede questo capito fatto così mi è rimasta un po la pelle sporca però ma si è piombata di prima i capelli va bene scendiamo perché stasera andiamo a mangiare la pizza andiamo a cena e andiamo a mangiare la pizza non lo so che dopo ve lo dico salve ragazzi ma avete visto che mi sono fatta nera nero blu spero che sto bene se mi fate commenti qua sotto spero che non criticate che mi sono fatta nera e se vi vorrei fare qualche commento positivo sotto a questo video va bene stasera siamo andati a cenese cioè a cenese siamo andati in pizzeria siamo tornati adesso infatti è tardi i video stasera va bene spero che vi è piaciuto questo vlog e che mi mettete tanti like e chi si vuole iscrive si iscrive se non mancezza va bene ciao al prossimo video ciao ciao ciao